Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Un vortice depressionario piuttosto intenso sta ancora interessando le regioni centro-meridionali dell'Italia. Ma vedete come l'anticiclone delle Azzorre spinge in direzione del centro-nord dell'Italia. Quindi abbiamo un forte miglioramento del tempo su queste regioni con un soleggiamento decisamente intenso e continuerà anche così nei prossimi giorni. Infatti domani avremo una bellissima giornata di sole in Valle Seriana, temperature frizzanti al primo mattino con minima intorno ai 10 gradi a Clusone ma massime che saliranno anche a 24-25 gradi. Ecco come andrà la settimana sull'Italia ed in Valle Seriana. Abbiamo individuato proprio nella giornata di mercoledì un rapido peggioramento del tempo. Infatti fino a martedì il tempo sarà decisamente buono ma poi passerà una veloce saccatura atlantica con aria fredda al suo seguito che ci interesserà a partire da martedì notte e soprattutto mercoledì mattina dove avremo degli intensi acquazzoni anche in Valle Seriana. Quota delle nevicate oltre i 2700 metri di altitudine. Al passaggio di questa saccatura che si trasferirà poi verso le regioni centro-meridionali dell'Italia ritornerà il bel tempo per qualche giorno ma le temperature saranno ancora abbastanza fresche. Ecco evoluzione da satellite individua proprio quest'area depressionaria ancora che interessa le regioni centro-meridionali dell'Italia con intense piogge mentre su tutto il bacino centro-occidentale del Mediterraneo splende il sole. Le perturbazioni sono ancora costrette a scorrere a latitudini più settentrionali e colpiscono quindi le isole britanniche e la Scandinavia. Quindi questa cupola anticiclonica che ci proteggerà ancora per qualche giorno. Ecco a largo delle anticiclone e delle azzorre si intravede una formazione nuvolosa che è figlia di un uragano che poi si abbatterà proprio sulle isole azzorre nei prossimi giorni. Ecco evoluzione del tempo per la giornata di domani. Che dire una bellissima giornata con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su tutta la Valle Seriana. Splenderà il sole in montagna così come sui nostri laghi sia Endine sia il lago di Iseo. Nel pomeriggio nulla di significativo, qualche annuvolamento soprattutto in montagna. Sopra i 2000 metri non escludiamo qualche formazione nuvolosa e una temperatura piuttosto fresca al primo mattino comprese fra i 9 e i 12 gradi e massime fra i 24 e i 26 gradi. Zero termico che si posizionerà intorno ai 3600 metri di altitudine. Diamo uno sguardo ora all'evoluzione del tempo proprio per la prossima settimana. Abbiamo detto lunedì e martedì delle belle giornate. Poche nuvi, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Temperature gradevoli nella media del periodo. Fra i 12 gradi di minima e i 24 gradi di massima. Ma martedì sera arriva il peggioramento che si concretizzerà soprattutto nella giornata di mercoledì. Mercoledì mattina acquazzoni anche intensi sui nostri rilievi e tutta la Valle Seriana. Temperature in diminuzione massime che non supereranno i 19 gradi. Acclusone zero termico che si abbasserà a 3000 metri e di conseguenza avremo delle spruzzate di neve sui nostri monti proprio sulle cime orobiche oltre 2700-2900 metri di altitudine. Giovedì invece migliora decisamente il tempo ma vedete come al mattino farà molto molto fresco. Minime acclusone intorno ai 7 gradi. Massime ancora che faranno fatica a salire e non supereranno i 19-20 gradi. Venerdì temperatura in graduale ripresa, ritornerà l'anticiclone dell'Azzorre a garantire bel tempo ancora per qualche giorno in attesa di intense perturbazioni atlantiche che probabilmente inizieranno ad interessarci però non prima del 26-27 di settembre. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna.